Noi vogliamo fare un film Un film? Il mio film? Di quello che fanno al cinema? Voi e te? Noi Se la vedo la sceneggiatura Che li avete gli attori? Non sapete chi è Scorsese? Non sapete chi è Marty Scorsese? È così che avete rovinato il cinema Noi Senti, ti piacerebbe aiutarci a fare pro-film a cercare l'attore? Stiamo cercando il nostro attore protagonista Voi siete registi? Sì, sì Allora, di cosa parla questo film? Una buona donna si ritrova dopo 40 anni Questo lei non è cosa Oh, me l'avete fatto fare biondo non mi prendete? Ma ci dispiace non sei troppo giovane No, no io sono vecchio sono vecchio dentro Ma chi è fra di voi il capo? Ehi Se torna e si è messa con quello mio padre mi ammazza Mi ammazzo pure io Tu con chi stai? Gérard Depardieu Gérard Depardieu Gérard Depardieu Gérard Depardieu Hai arrivato del tuo adesso? Sì, ferma La segretaria non porta più Arriva l'americano facciamo il film L'avete trovato? Era lui Sbrighiamoci Tra due giorni arriva e ancora non c'è punto nulla Ma è bello Bellissimo Sono io l'imperatore until nuove Nala Nala Mai hai l'imperatore Nala